Buongiorno, buongiorno a popolo, sempre in questa locresce super elegante e da ieri sera, mandando tutti i messaggi anche in questo momento mentre parlo con voi e vi sto sacrificando, ve lo sto mandando a tutti, fino a questa sera quando ne arriveranno e arriveranno, ognuno di voi avrà questo super ambo l'unica cosa, gentilezza che vi chiedo, la prima è di mandare lo scontrino della giocata la foto davanti e dietro di quest'unico ambo prima delle ore 20 io sono chiaro con voi, chi non la manderà la prossima volta io non vi farò questo regalo quindi, non sta a voi usare questa piccola gentilezza quindi lo scontrino, prima delle estrazioni, dicevi in mente la foto davanti e indietro me la mandate poi quest'unico qua, vedete, io vi ho regalato e vi sto regalando tutt'ora potrebbe essere un grande studio personale innanzitutto è un solo ambo coprite la ruota nazionale ok? non vi posso mandare 7000 messaggi perché tanti quasi me ne sono arrivati e da ieri notte nonostante la mia giovane età sto rispondendo a tutti quindi sto facendo da mia parte è questa previsione che io vi sto donando e per chi è arrivato alla fine cioè la mia bravura non sta soltanto nel dare un ambo a farvi giocare il numero 7, 8, 10 colpi perché le persone si stancano dopo di che non giocano più non vedono risultati e mi raccomando sto super estratto quindi io vi ho donato la previsione nell'attimo in cui per voi sarà uno o due colpi ma in realtà ho fatto passare i colpi che dovevano passare quindi le mie ricerche si basano non solo sul fatto della sortita di una previsione ma a che colpo sta ok? per darvela subito ok? va bene Occhialianotto mi raccomando da Leone è tutto saluto da questo splendido posto ciao ciao